Cominciamo a fare due, io il tempo e dopo chi vuole entrare? E quindi usi due scilde, due lanciarazzi e un laser con la furia? Si E dove la metti la furia? La furia la metto all'inizio No, no, io non c'è quello che c'ho io E' c'è tanto E' entrato Cecco nel team, hai visto? Ce l'ho fatto entrare io L'hai fatto di installare il gioco? No, io gli ho chiesto Oh Cecco Mamma mia, mi si è bloccato Oh Cecco, te che sei tecnico l'hai installato L'ho detto Rushworth L'ho detto, certo E mi ha mandato il link del video dove si installava E io ho detto che ce l'ho installato La seconda curiosità L'ho detto che l'ha installato E io ho detto, vuoi entrare il mio team? L'ho detto sì E stamattina è sembrato Ma è scherzo C'ho 87 con Io ce l'ho a 370 Non so, è rimasto a 367 nel parco Ma la ha già smesso di giocare Non ci gioca più già Che ne sa lei E ieri l'allenamento era a 190 qualcosa Stamattina ho riguardato C'è una 200 Ma io sono fortissimo Quindi saprò di vero E sono molto sicuro di queste cose Ma C'è qualcuno in live? Due persone Sì Mike Miki 009 Ciao A fare provino Mike Oh Perché non c'è messo il suo No 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 Che cavolo era Si vorrei fare provino E bro Iscriviti al canale Lascia like E te lo farò fare Allora c'è un nuovo oggetto Che ti fa lo scuro Ritorno Lo prendo Ehm Lo scuro Ehm Ah si si prendilo Prendilo Qui Quello è che non ti possono sparare Ma te ne puoi sparare Sì si si Prendilo Prendilo Ehm Sali sopra che c'è un sguazzo No arrivo Ah non sei sopra sopra Sì si si Dimmi quando ti sei scritto Lascia to like Che ti faccio Fai provino No Non ho usato la bomba Buona buona E' il momento De pushar Il momento De pushar Non ci possono sparare Sono già scritto Lasciato like Ok adesso Mandami Il tuo nick Che ti manda l'amicizia Eccoli Sti scarsoni Eccone uno A terra Sta scappando Sta scappando No 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 Sta scappando però No no Non può scappare C'ha tipo Pochissima vita E laggiù Mamma mia Non ci posso credere No non ci posso credere L'ha arrestato No 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 Dovevamo andare Dovevamo andare Dovevamo andare No 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 Oh raga Non volevo Sì si si Nicola poteva ci provino Calma E il mio nick Ok adesso Ti mando l'amicizia Bravo Unciso A posto Dai non potevano Vivere questi Eravano troppo Scarsi per vivere Oh bello Adesso c'è il contatore Di kill Le squadre Adesso Devo andare Amicizia Io c'ho ancora Quello scudo E' andata bene A me mi hanno E' andata bene Dai ne è poco Famo subito Andai in 6 Sì ma turbo building E' un'opzione Se te la vuoi mettere Ok Se te la vuoi disattivare Turbo building La togli E' fatta Cioè No no Tutta sta roba Del turbo building Per niente Cioè Allora King Dico Mickey Broma 609 Ok ok No il sillino Ce l'ho io Mi tengo io Vabbè Semmai To Allora Allora Pinto sto sillino E il mio più io Sì bro Ciao Dama Baresi E uno Che ho mandato L'amice Se mi rispondi E' meglio Dimmi Ti è arrivata La mia tizia Oh Se no me la mandi Se non ti è arrivata Oh Gente 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 che andate in safe Andate in safe Ok Puretti questi C'è un Poca 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 vita Cioè Sì Sono morti Sono Palesemente Morti Oh Vabbè Ho pochi colpi Eccoli Oh Mi sa che sono forti Però Non so C'hanno due skin Veramente devastanti C'è un robot Se ci vede che fai te Ma alla fine Ok Devo uno Devo uno Sì Luca Ok Io non ho più colpi Del pompa Eh È sotto di me Sto a prendere la scheda D'amico Se viene il suo credito Lo riusciamo Ah No 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 bro No bro No 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 44 No Luca No Eh no Dimmelo Dimmelo Io ne so Pensavo che l'avevi sentito Vabbè Non potevo fare niente Avevo finito i colpi Mannaggia A me Ma chi è che fa Provinio prima Ma chi lo vuole Sto Miki09 Ok Menti gradi Allora Se mi ha accettato D'amicizia Aspetta Che la mando Allora Ecco No Nicobare Nicobare No Devo lasciare il gruppo Aspetta Perché Che miseria fai Un attimo Un attimo Vabbè Aspetta King Non mi Non ti trova King09 Vabbè Allora A sto punto A sto punto Lo fa un fanico Famo un altro Due O fa un fanico Fa un fanico A sto punto Ok Lo invito io Ci per Lo invito io Lo invito io Sì Oh Grande Dark game Dopo ci si diverte Un giorno Ovviamente Staremo molto cattivi Con lei Perché Cioè È così Che si dovrebbe fare Cioè Non dobbiamo essere Così Che Oh Metti creativa Intanto Non dobbiamo Se riesci a mettere creativa Possiamo iniziare Questo Grazie Allora Saremo molto Discreti Sul Risultato No Ah Sì 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 Famo Una scala O due Scale Per dopo Tirare Una scala Una scala Sola Sì Ok Venite la mamma mia No Ne tro Maggio Aspetta, aspetta, non entrare Non entrare, ti dico Tanto adio Bro, adesso te mi dici Ti ho inviato l'amicizia Ma cos'è sta roba? Oh no, ti ho detto che usci Dai, stavo leggendo un commento Matt, ti ho mandato la richiesta Me l'accetti? Porca miseria Ma che cazzo sto andando? Oh, io sbaglio Ok, calma Calma, calma, calma Ma ti ho mandato la richiesta Me l'accetti Ecco Appena fatto sto provino Bro, lo faccio fare a te Se mi scrivevi prima Te lo facevo fare prima a te Ma non mi scrivevi più Pensavo che te ne eri andato Dai Luca, comincio io Dai Luca, comincio io Bro, due scale e poi giri Non si può distruggere sotto Una scale e poi giri Tu non puoi in difficoltà No, sono quello Sono io quello in difficoltà Non è vero mai Fato una cavolata Fato una cavolata Ah no Non metti Ah no, inhittabile Ma ti ho hittato? Scusa Ah no Nico, aspetta, aspetta, fermo, fermo, intami Non si può intare Siamo nella stessa squadra, ci credo Ma siete da... Non si può cambiare Sì, basta che vado di qua e fai seleziona squadra Io non ce l'ho seleziona squadra Nico, te ce l'hai seleziona squadra? No Aspetta che faccio termina partita Siete molto mungolo Ma io dico ma perché non ce l'ho? Come è possibile che non ti ho colpito? Aspetta Ma siamo seleziona squadra Adesso seleziona squadra Anch'io, ma tanto se fai seleziona squadra adesso Non te fa per dopo Stai a vedere Ok, io sono da solo Io sono da solo, te Ok, ok, ok Come non hai preso il lama? Manco io l'ho preso Le mie parole prima del provino Oh, saremo molto seri quest'oggi Oh, sei scemo Aspetta Sì, sì, lo so Tranquillo Ma Nico Non è la roba Dovevi dire quanti così per un'altra scala Ah, capito Ah, ok, ok, ok Vai A posto Vai 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 No, no, no Chi è sta roba? Oh, ma te non hai mai fatto sta roba, no? Adesso ti viene in mente Con la cupola Ero sopra io in teoria Però ho fatto una roba con la cupola E mi sono inceppato Ero sopra io in teoria Basta, bildone Mi cupoli addirittura? Non hai una roba Certo, no? Va bene No, no, no Porco Porco schifo Infame Complimenti per questa Come non fai colazione Ma che vuol dire? No, non c'ho voglia Mi è arrivata la lavatrice E mia madre deve stare lì Quindi Dove sta a capire come funziona? Ma Avete finito? No No, no, Nico Nico, Nico, Nico No, 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 no La mia mira 1-0 per te No Sei 1-0 contro il mio Scusa, ma il mio buon Mi ha fatto 20-70 veramente? Grazie Ti do il mio Ho fatto scambio pompa Adesso sicuramente Funzionerà Complimenti Ma sei salito almeno Oh Ma Ma sei d'emmes Oh e basta Non ti riesco a mettere Ma se ti riesco a mettere Il piano Perché non me lo mette Riuscirei a prendere L'AIG Vabbè che ce l'ho lo stesso Però Guarda un po' Eccolo Non è vero Non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho per una Ma io li faccio Senza piano Ma perché? Se voglio Li faccio anche col piano Cioè quanto ci vuole Eeeh Attenzione Ma senza piano? Sono più facili E sto più veloce E sto più veloce Ti hito sempre Io sto 100-100 Lui sarà ormai 40 Ma ho fatto sempre 17-20-20 Vabbè dai lontano No C'è il limite Eh boh si Si oh Ma che palle Wow Bello quello Cos'era? Cos'era? Quanto è che ha fatto? Quanto è che ha fatto? 123 Grazie Luca Il tuo pompa è veramente devastante Ma perché mi hai perso? No ho vinto No ho vinto io Adesso perché mi sono rigenerato Adesso perché mi sono rigenerato Ma quando posso fare il provino Quando ho finito questo provino Però Appena ho finito questo provino Faccio fare il provino a te Tranquillo Vada Il tuo pompa è devastante Il tuo pompa è devastante Hai completamente ragione Hai completamente ragione Oh chi vince questo vince tutto Vince tutto Cioè dopo c'è contro il Luca Però se vinci Wow Se tipo vinci con uno Ma perdi con un altro Te facciamo sapere Cioè non sei l'entino Ma può essere che non sei manco fuori l'entino Dopo Tipo Quando ho finito Voglio provare A buildare col turbo building Cioè senza il turbo building In pratica Se tieni premuto il tasso del moto Non ti build Devi cliccare ogni volta Wow No Fa schifo Dai mira Fai qualcosa nella vita Quanta vita c'hai da? 164 No Come no? No Sta facendo una buona giocata Ho sempre l'heground Però Sta facendo una buona giocata Allora sai E poi metti in piano Editi e spazio No Mi si è distrutto sotto No Ho perso l'heground No Ho perso tutto Aspetta con calma Sta un po' Zitto Guarda un po' Guarda un po' Un cacchio Perché tanto Ancora non te lo ho preso L'arico Io si io lo sento Ah No 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 What? 30 ha fatto 30 Io dopo di questo non ho parole Luca il tuo pompa ha fatto 30 Sì il tuo pompa ha fatto 30 Ora voglio buildare con il tuo robobuilding Oddio Ma cos'è sto schifo? Ma che Ma che è sta impostazione? Ma non si riesce manco a far scaramuro il pavimento E non è facile Ma è impossibile Non è che la mia pace Ti sta vincendo? Per il momento lo perriste nico Però è grande io Matti ma quanto si arriva Bro devi vincere due fight con me E due fight con lui Dopodiché Hai vinto Guarda quanto si è build up Senza il robobuilding Io devi sapere Miki Che ho partecipato alla World Cup Con Nitro Cioè con il mio amico BlueGamer E siamo Cioè non ci siamo qualificati per New York Ma ci siamo qualificati prima Dopo Stiamo andati in vacanza quindi Non ci abbiamo Non ci abbiamo avuto modo di andare a New York Perché sennò ci andavamo E vedevi anche a noi due Capito bro? Cos'è che Cos'è che vuoi nico? Metti in dubbio Vai che gara Allora Luca prendi like Ma hai preso Adesso mi builda un po' a ritardo Non so perché Hai vinto nico Tanto Tanto ha vinto È inutile Vabbè Vabbè comunque nico Te famo Sappi All'80% Sei nel team Però 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 Ti facciamo sapere Oh Luca Dovamo andare da Mickey009 Ma in questo in teoria Ce l'avevo già l'amicizia Com'è che si chiama? Michele Lupo Luproshoot Però se sei nel nostro team Bisogna che lo chiami Che lo cambi No ma che cavolo è sta roba Michele No come è che si chiama? Miche Micheluproshoot Vabbè nico Tanto Nell'asus Martoz Chi è che vince? Nel turtle fight? Eh sì sì Vabbè ma male con l'era Molto tempo fa Adesso Adesso te sei migliorato Vabbè Intanto io esco A me non mi ha preso Tutti headshot Cioè a me non mi ha preso mai Con lo scar Vabbè Luca Quando vieni Ti invito Dimmi quando vieni Che ti invito Allora E dov'è che Con chi è che Non fa il provino Michele Luproshoot Sì Ovvero Si entra nei box Così a casa Si scherzo Ciao Ciao Sì Ciao Oh non te trovo Ecco Toto T'ho invitato T'ho invitato Proprio lui Giochi da play Col controller Giochi da Nintendo Switch Col controller E' 62009 Presumo che sei 2009 Versumo che sei 2009 vero Ok Ma da quanto sei Dopo entra nell'isola Nell'isola di nitrolu gamer Comunque comincio io Luca No no Cominciò io tranquillo Non c'è problema No ancora non è entrato Nell'isola di nitrolu gamer Ok Vai Luca Via 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 Non c'è bisogno che prendi le armi Tanto adesso devo Ma qua c'è È spaccato Dimmi Ah le armi devi prendere Nell'ama qua sotto Ma da quanto è che giochi Da Season 9 Ok Vai inizio Una scala Poi giri Ho sbagliato Ho messo tutti i colpi No Luca Ho messo tutti i colpi Non ci posso credere Sono scherzo Unciso Uno a zero Chi è sto bippo No ma dove No 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 Quello Con la sua Gatta Paraponzi Ponzi Bam Dai Bro Modificate Allora Ho messo tutti i colpi gg bro vai se mi giochi con lo gamer oh sei pazzo sei pazzo sei pazzo si oh ti distruggo con un 200 io no no stavo ma hai detto io pronto andiamo ho visto tutti i colpi questo è una mardizione oggi il primo fight l'ho messati tutti mh c'è una buona mira bro hanno fatto il 140 dritti in faccia si ma se lui però si campera e non sale brus però per farci una buona impressione di te non puoi camperare cioè devi salire in qualche modo farlo risali farlo risali ah no posso sei sceso te secondo fight aspetta che mi rigenero va oi 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 mi rigenero Fino a quando non mi stanco Allora bro, esercitati e poi magari ci fai risapere, adesso non puoi entrare nel team, mi dispiace La stessa roba mia esce che fa molto rovino a Dark Game E' il mio frio Bella Denise Pace, iscriviti al canale, lascia like e ti farò fare provino, Dark Game, quindi vuoi fare provino, si provino in creativa bro Lasciate like, ovviamente Ha capito che non lo volevo nel team? E io glielo ho detto Quindi provo a fare provino Donato, hai invitato? Si, adesso arrivo Chi è che vuole fare provino a Dark Game? Buon Dio Non lo so, non lo so Ascolta No Si Chi è che vuole fare provino a Dark Game? C'era un altro che mi aveva scritto che voleva fare provino a Dark Game, adesso invito a Dark Game Ma sta nei Tempest Eh, se c'è già un team non c'è, non c'è senso far provino No, infatti, non c'è senso Ne fammo una tu Ne fammo una due Poi dopo se viene qualcun altro che vuole fare provino, al massimo quittà la mandiamo in creativa Bro, sto nei Tempest del massimo partito Bro, sto nei Tempest del massimo partito Ok, ok, Bro, non c'è problema Non c'è problema Ma i Tempest sono... Sono... Sono un team competitivo i Tempest Bro, sono un team competitivo Cosa? No, no C'era questo, bella, posso fare provino Buono Denise, pace Eh, direi che mi manda al nick E poi gli escuta Buono, non scrive più Non si sa Ah, allora bene Comunque questo qua, Mickey Questo qua No, no, no Hai visto come faceva i 90? Sì, si fermava Ma non erano 90 Non so, tipo faceva piano e scala e basta Esatto Vabbè che comunque giocare da Nintendo Switch con controller non è facile Eh, lo so Sì, infatti se ti vuoi presentare un provino però dovresti essere un po' fuori Sì 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 Non è tanto Non è tanto Casa? Blu? Eeeh... nono Sì Io sto sopra a casa blu C'è gente sotto e però... non ci provo Molte Non ci provo È Sì 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 Non ci provo C'è Sì Sì no 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 Ehm... Sì, me lo so che ho fatto Hi Malekstv, bella posso fare provino Iscriviti al canale, lascia like E poi mi invi il nick What the hell Luca guarda Non si può distruggere Ah ok Vabbè Questo gioco si chiama fortnite E il secondo nome è buggato Fatto Ok bro Hai lasciato anche like Oh sì, hai lasciato anche like per forza Intanto che ti mando l'amicizia bro Dimmi a che livello sei più o meno Perché prima mi è arrivato uno che Non sapeva fare niente Cioè a che livello sei? Sì sì, sei scritto Ok bro Io ti ho mandato l'amicizia In che senso Tipo Sei forte Cioè come ti reputi? Sei forte, scarso, medio Cioè io mi reputo medio Medio, medio, medio forte Me la cavo diciamo Va bene, va bene Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace Vediamo qui il taluca Cosa hai detto? Me la cavo Cos'è? Me la cavo Proviamo a fare... Eh appunto Faitiamo Vediamo come va C'è un'anna, c'è un'anna Porco schifo Distrutto Oh, questo non è male Bro, ma te non stai nei Tempest? Bro, è normale È normale che per alcuni Ecco Questo è forte Questo è forte No, no, ha ragione Ha ragione C'è prima Dark game Però mi aveva detto Che erano i Tempest Quindi Ma chi è che ha detto Che prima c'è Dark game? Calma, calma Alex Calma, calma Vai, vedi a quello là Con lì Dimmi bro, dimmi Sei nei Tempest O ti devo fare il provino? Eh comunque lo devo fare Prima lui Li lascio bro Non ci sono più dentro Ah, ok Però bro Me lo dovevi dire prima Te lo faccio fare subito Robo Anzi Venite tutte e due In lobby Così ve lo facciamo Facciamo una roba veloce Ok raga Voi invitati tutti e due Ecco al gamer Bella bro Bella Sì tutti da bici bro Te Ma è in creativa il provino? Sì sì bro Contro me Roo Gamer Ok Ma 2v1 devi fare oppure Cosa? 2v1 Oppure 1v1 No, 1v1 Il gruppo non è riuscito a connettere Di problemi Rimendate pronti Riproviamo Io l'ho messo pronta Ma non me lo vende Dai dovrebbe fare Ma l'hai tolta? Va bene Sì sì ti sento Ha detto che entra Esce Bello quel panda rosa Credo di avercelo anch'io Sì Adesso lo metto anche io Dai speriamo che adesso fa Sennò entramo prima io e lo gamer E poi vi invitiamo la vicenda E entrate Hai ancora la password Però guardaci con lei Niente Non ce la metto Luca mettilo capo Ok io Ma perché non parla No alu gamer non parla Perché adesso c'è il microfono Che non funziona Quindi lo sto a sentire al telefono Ciao noob Ma riesce entrare da solo in creativa Bro da solo ci riesce entrare in creativa Non mi senti Oddio ma What Porco Al gamer te mi senti? Porca miseria Perché mai si sente? Ah non so perché Aspetta Mi senti bro? Adesso si Adesso si Adesso si E non so perché Ma hai tolto la password Bro Se no entriamo prima noi tre Poi entrerà solo Cosa? Dai io Dici un attimo Perché sono quasi Mettiamo tre ore Sì sì Appena entriamo noi Bro te invito E entri anche te Perché so Noi la fanno Un po' da qua Eh ma Come facciamo Qual è? Eh ma Appena entriamo noi In creativa Te invito E dopo Ti aspettiamo in lobby Ah ok Vai Vai esci Vai esci bro Ampa Luca aspetta perché quello adesso è l'idea e forse ha messo la password da tutti un secondo ma perché non funziona aspetta opzioni personalizzate no io non c'ho la password anche io luca te c'è la password server privati ma si entrano tutte e due è molto più instant ok non entrate da nessuna parte ecco il gamer t'ho invitato ora entra ok si aspetta luca ok la senta è il netro luca i ver vieni si insieme in quattro al gamer si c'è 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 ma te al gamer quanti anni c'hai ci sono scarro e pompa nel lama no bro no chi è che rompe le scale ferma cioè adesso chi fai da prima di voi dai dai dark fai da te aspetta c'hai una scala di dietro ah ma c'è tu due scale oh quanti scale ti fanno master e allora una e poi giri vai credo di sì comunque dark c'è due possibilità tranquillo cioè se vince prima lui non è fatta niente non si può rompe sotto dark ok 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 morto chi pensa e non lo sapeva vai se come fate il secondo si si luca si 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 non si non si Sei forte Come buildi sei forte Poi bisogna vedere Ammirare tutte le robe Però sembri forte Prima Mi senti? Fate il secondo Che il primo non sapevi che bisognava Non bisognava Spacca sotto Se vinci questo Dark hai vinto tutto LoryTV Aspetta LoryTV è Oh chi è che mi spara? Ma perché prende la rincorsa? Eh Luca mi sparavi te? Eh Mi fai Eh perché se no Mi prende la rincorsa Vabbè allora fammi che la rincorsa Non sappia Eh sì sì Puoi fare provino LoryTV tu cugino? Non lo so Ci vediamo noi due Dopo fai te Aspetta Lì Appena hanno finito loro due Cioè io fai te contro Dark E poi fai te E te fai te dopo Appena abbiamo finito con lui Ok bro Ok bro adesso fai te contro i te Adesso fai te contro l'L Tark Tempest Tutti i nomi Tark Tark Aspetta bro aspetta 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 Però c'ho 65 di vita io Vai Sì 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 ah non ti riesco a ritare no verso le ground non è vero si è vero bro mi è stato per il primo ci siamo occhio è rimasto 40 di vita niente dell'amore non ci credo ciao da Crazy Inventors ciao Martino Costinelli primo flight vinto non ci credo devo cominciare il tattoo no non ci credo ma hai trappolato nella cupola oh intanto mai tato e mai fatto anche male no Bruno no non ci credo vabbè non ci posso fare niente sei più forte da me lo sei sempre stato cosa cosa eh lo so ma ci vuole qualcosa di più per raggiungere l'altro l'altro no 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 Luca vuole che ti attacchi al muro che cazzo vabbè che te frega attaccate al muro non vabbè ma non vabbè 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 Noi Aspettate un attimo Che voglio provare Demo Che cazzo fai Devo salire Vai fai Vai No bro non ho capito L'headshot con lo scar è questo No facciamo un solo Verso due Voglio vedere una roba Non è possibile Oh c'è Una mira Non so Non so di chi Dopo dark Vedi anche Questo c'è qualcosa Strano Bro C'hai aimbot Per caso Vabbè che sei bravo Questo non lo metto in dubbio Secondo me è sicuro Ma sicuro Ma non può Ma sicuro ma non può Hai vinto Hai vinto 2 a 0 Con tutti e due Te faccio sapere bro Ma Fai un fight con dark Qui vengo Io mi è rimasto impresso Quell'hit con lo scar Ma in due hit Mi hai distrutto E poi ti sei girato Ti sei girato E mi hai distrutto Oh che figata Oh che figata Siamo incontrati un hacker Cioè che figata Io io per distruggire la scale Oh 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 Calmati Hai capito dark No bro Dai Andiamo a fare solo Versus 2 Te prego Vieni in lobby Vieni in lobby bro Vieni in lobby Famo un solo verso squad Famo un solo verso squad No 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 Solo verso squad Raga ci muori No ci muori Perché hacker Dai bro Dai bro Che figo Dai vabbè Se muori Non c'è problema No bro Perché Mi è sembrato Un po' strano Cioè Cosa bro Tutti in mare No Io mi succedo Tutti in mare Ah si Tutti in mare Ho capito Tutti a teamare No no Si bro Però non disatteva Quali h adesso Te prego No ma che cazzo Vabbè Ma che cazzo Ma che cazzo Vabbè Oh bro C'è Mi ha fatto 150 A me Mi è sembrato Mi è sembrati Stranissimi Quegli Ma proprio Strani 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 Lui dice Che non ce l'ha Bro Bro Questo Non è Buona Mira Questo È aimbot Perché Hai fatto Tutti Headshot Non sei andato Al di fuori Dell'headshot Però adesso Vediamo Oh bro Si c'hai Aimbot È una figata Perché faccio Un botto De video Con te Certo C'hai La mira Così Buona C'è No no Io No 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 Aspetta Ma lui Gioca da PC Si muove Da Uno che sa Fare Ma Ma voilă Vedeti Cei Altri Si Linii In Cază For Cază Sì, però vedi, va tipo a scatti a volte, cioè, se sposta, è tipo a scatti. Quello lo vedi? Ok. Sì, chi vuole adesso la fa così per non far vedere. Sì, chi vuole adesso la fa così per non far vedere. Con calma, con calma. Emma, hai visto? Mhm. 123, eh? Hai visto come si è spostato il mirino? Aspetta. Ti devo far vedere una roba in freddo. Cioè, Luca, secondo me questo ha disattivato l'inbot adesso, eh? No, ti devo far vedere una roba in freddo. Adesso per miracolo non piace più niente, dai. Dai, ma siamo... Adesso gli devo di qualche... Bro, ma... Una roba, ma perché adesso così per miracolo non pì più niente con lo scar... Ecco. Non... Ma perché non prendi più niente con la R? Prima li piavi tutti. L'ho visto, l'ho visto quella. Dai, me l'hanno quasi fatta. No, non voglio un attimo. Mi volevo fare un replay. Tu volevo fare un nuovo. Fammo un'altra sola. Che facciamo? Ne facciamo un'altra. Vediamo... Giochiamo tutti? Dai, sì. Giochiamo tutti stavolta. Sì, potreste anche fare questa roba. Eh... Dark e Al Gamer insieme. Eh, dimmi. Io e Lugamer moriamo. Bro, non è che se... Cioè, ti ripeto, se ti usi le hack, io non è che ti vado a denunciare alla Epic. Cioè, non c'è inutile. Ho sentato in un account senza skin. In S2X. Guarda di questo tipo. Però adesso io ho un account, come faccio la briscia. Vanno... Vanno... Vanno la season 4. Vanno la season 4. Vanno la season 4. Oppure fanno due in una città e con un'altra e vedremo qui tipo... Chi mi fai a... Eh... Un'altra volta mi è successo che praticamente dobbiamo fare Gradual. Ma quando cucina con alcuni... Con alcuni... ... ultima donna. E ho detto che poteva avessi amare. Ha detto di sì, stava facendo per due dei sintoni. Ha detto in alcuna partita. Ha detto di dire... Oh ma sei normale a primo sintonia. E ho detto di guarda. Perché io sono più bravo. Sucuro. No, boh perché... Che... Non è che sto abituato a vedere una cosa così che... Matt... Facciamo... Sì sì... si si fate voi due luca succede no no io mi asciuto voglio aspettarli mi sentite raga raga mi sentite ok ok ti aspetta il gamer rispetto a dark è diviso i materiali oh comunque se ti dici che non c'hai lanebot bro ascoltami se te dici non non c'hai lanebot qua formiamo una squadra veramente bella perché te c'hai una mira veramente buonissima Chi è che mi sta aspettando a me? Io, io Tu hai il gamer? C'ha Ista per caso? C'ha Ista? Com'è che ti chiami? E' un gamer e un gamer Come? Un piccolo Alessandro Amo 8 Alessandro? Amo 8 Amo 8 Ah ok Ma io non ho proprio voglia di usarlo Non mi piace Bravo Dark E poi noi abbiamo altri 4 Ma perché non è che sto fermo? Matt c'era un mio amico E' a fare il provino dopo Va bene Alessandro Umano giusto? Bro l'8 è staccato Cioè mi fanno Mi fanno Bro l'amico tuo è Archiegeist? Come si chiama l'amico tuo? Dark come si chiama l'amico tuo? Questo qua è Ah ok ok Allora Alessandro Umano giusto? Adora è Archiegeist Con l'amico suo Alessandro Umano giusto? Ma Qua non me lo trovo Giulio ma non puoi spostare il ventilatore Ok adesso lo spostiamo E non ti butti l'aria sul microfono Non è al gamer che me lo puoi scrivenciato Che qua non lo trovo Magari è scritto in modo speciale Che ne so Guarda me lo trovo Ti chiedo l'amicizia Anarchiegeist Ah me l'hai già chiesto Ti ho accettato l'amicizia Anarchiegeist Ti ho accettato l'amicizia Luca te che dici? Quattro Sto qui Ti sta aspettando Luca Perché tutte le cose che ha detto So avere C'ha un account Con delle skin E dei piccoli preziosissimi E alla fine Boh Non lo so Può essere che è il tifo italiano Con la mira Che ne so Oh c'è uno Si Dark Oddio questo è un Dark Questo è un bot Si Dark Io non lo so Dio Dio Non lo so Non sapevo neanche come si chiamava No veramente Luca io non l'ho visto Però Occhio bro, non volate alla fine Sì, ragazzi Sì, ragazzi Sì, ragazzi Oh, sì, sì, dark Sì, dark, bello quel 66 Peccato Peccato che l'hanno arrestati 65 Dai, ragazzi Questi non sanno manco Questi non sanno manco come si chiamano Dai No, boh Mi pare che non sanno troppo forti 31 GG, ragazzi GG No, raga Che sfiga Raga Eh, non posso far niente io Da robot Bro, cerca di scappare qua la giampa Se la sei morta Sì Raga, scappate con il rift Il rift Raga, il rift Oh Bello dark Raga, jumpate Raga, jumpate Andate in safe Cioè, jumpate Mi prendete il rift Mi prendete il rift Raga, prendete il rift E andate in safe Cioè, il robot Non glielo fate Al gamer qua c'è uno one Devi scappate Devi scappare Ok, apposta, apposta, apposta È andata be', è andata be', è andata be' Siete malissimi Siete messi malissimi De vita Vieni, vieni, vieni Dai, gamer No, no, no Pusci C'è gente allo scheletro, raga Sì, c'è uno Sì, c'è uno davanti al gamer Non c'è Allo scheletro Oh, che cazzo serve No, ma vuoi diventerà l'esprete No Stai attento Non, ma vuoi diventerà l'esprete Non, ma vuoi diventerà l'esprete Occhio Mamma mia No, no, è dark Non, ma vuoi diventerà l'esprete Che sfiga Ma voglio anche No Perché nel momento C'è una testa No, bravo Anche io C'è la gialla di Mazzano Ma come ho fatto fermato Per carità, bravo, va bravo Eh, c'è anche robot Ragazzi siete morti Come fate Non potevo far niente Ragazzi siete morti Non ci potete fare niente 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 Bravissimi comunque Dimmi Giulio Ho appena fatto il mio telefono In arena singolo Grande Possiamo rinnovarci Un attimo raga Andiamo un attimo in creativa Fanno l'ultimo provino di oggi Un amico di dark Creativa in pubblica fare il provino Creativa, creativa Tanto siamo in cinque Pubblica Raga siamo in cinque Famo provino in creativa Famo uno vi uno Al gamer Metti pronto Tempesto al gamer no 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 Ok Fiamo un provino veloce E poi Fiamo tipo una squadra Così A casa Tieni da via Luca Ok Sì sì Nell'isola di lo gamer Sì Non c'è Ok Qua è? La mia No 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 raga Andiamo nell'isola di lo gamer Guarda che non ce so No non ce so Non ce so Aspetta dove è? No ecco Qua Comincia l'u-gamer Dov'è? Dov'è? Ah ecco L'ora è via E questa Abbiata Io Abbiata No Giulio Te devi fightare con lo gamer Nel posto dei fight Oh Ah Quello dei 6.000 trofei Vieni Cosa? Vieni Dove? Qui Aspetta che prendi un'arma Che non ce l'ho Io Ah Io Un momento Un momento Un momento Sì è una bestia in pubblica Sì è una bestia in pubblica Sì Ma dove fanno tipo un solo verso il 2 Eh solo verso il 2 Sì Versus cosa non pensi Ah beh A me va bene Versus cosa Sai quando bisogna andare a essere forti A avere tecnica in giro Versus cosa E contro il team di forti Ok Che forte di te Dark No no Questo Luca non ce l'ha Lei tranquillo Secondo me neanche qua Al gamer Dai non ce l'ho Perché è il territorio È un territorio Per me Hai capito? Giulio Non ce l'ho 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 No Giulio Non devi Iniziare con i 90 Ah Non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho Sì non so Cosa ne sono Mato Sì no 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 e bro non si può distruggere sotto si adesso finisco qua che siamo 1 pari bro non si può distruggere sotto dark dia al tuo friend che non si può distruggere sotto si rifà il fight quando uno è in altezza non vale far cadere oddio toitato per sbaglio esatto esatto la mia mira una cosa speciale guarda marco un attimo no adesso un attimo un attimo b please dai non vale guarda perché non vale allora non si può prendere gioco dello streamer in questo caso no 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 no